Seconda giornata di sciopero ferroviario nel Regno Unito dopo la rottura delle trattative tra i sindacati, alcune aziende private e il governo britannico. Con lo sciopero di oggi si prevede il blocco di metà della rete ferroviaria inglese. Martedì scorso milioni di viaggiatori sono stati colpiti dall'inizio del più grande sciopero degli ultimi decenni. Un altro sciopero generale dei treni è previsto per sabato.